Stilata la graduatoria provvisoria per gli asili nido comunali per l'anno 2022-2023, più di 160 le richieste per l'esattezza 163. Secondo il bando, le strutture disponibili sono 4, e cioè Santa Petronilla in Viettore Romagnoli, che può ospitare 49 minori, di cui 7 lattanti e 42 di vezzi, con la Ianni in Via degli Orti, con 27 minori, 7 lattanti e 20 di vezzi, Santa Barbara in Corsa Italia, che può ospitare 10 di vezzi, e Pierpaolo Pasolini nell'omonima via, con 28 minori, di cui 7 lattanti e 21 di vezzi. Si precisavano nel bando i titoli di precedenza delle ammissioni, come nel caso di chi ha frequentato la Siro nell'anno precedente, e i criteri di ammissione. I posti disponibili, inoltre, potranno subire variazione, si leggeva, sulla scorta delle conferme delle frequenze degli utenti a venti diritto o per esigenze organizzative dell'asilo. Tra le avvertenze, inoltre, si preannunciava la possibilità di aumentare il numero di iscritti in relazione all'attribuzione dei finanziamenti richiesti dal Comune. Superati, infine, i termini per la presentazione delle domande, è stata stilata e pubblicata un'unica graduatoria provvisoria, tra riammessi, ammessi e lista d'attesa.